Oggi mangiamo fin adesso, cioè la prima noyolta, quindi ho il bacchetto ovviamente, io però non so mai usare il bacchetto, ma ci proviamo. Questo qua è il tolto con il salmone, questo qua è il riso con le uova, se non mi ricordo male, poi tutto il resto. Ora l'unica cosa, il wasabi, no no no, aiuto, si dice che il wasabi è la salsa più piccante del mondo. Vedete come si prende con i sushi? Così? Non so capace? Così? Nooo! Così? Lossetto crema di scambio. Guarda l'uova. L'uova è crema. E' soddisfatto. Vedi? Mmm, molto buono! Questo è il riso crema. Questo è buonissimo, però questo cibo è molto buono. E' rubi pure il gossetto. Potremmo bere anche la coca cola. E' un goccettino. Potremmo bere anche la... Un goccettino. Ah! Papà, solo un goccettino. Eh? Un goccettino. Poi questo è il risetto con la crema pasticciara. Prima volta che assaggia il sushi, quindi... Buon appetito! Buon appetito! E... 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 Sambra cattita. Buon appetito! Per il signore. Buono! Buono! Così tipo? Ho capito, così. Allora ragazzi, il mangiare è buono. Ci vediamo nel prossimo video dove andremo a mangiare da altri locali. Quindi non dimenticate solo di iscrivervi e lasciare like. Addio! Ho tanta fame! Ciao! Non c'è fame, eh? Ciao! Ciao! Ciao!